A SIGURO L'ultima di campionato è una passerella, solo per il Chieti, non per il Porto Pescara, costretto a vincere per evitare i play-out. Memory della sconfitta dell'andata, la compagine del presidente Angeloni non si tira indietro per difendere l'onore, ed infatti a setta manda in campo la stessa formazione di domenica scorsa a penne. Dunque, panchina per Santarelli e Praino. La giornata molto calda non scoraggia l'afflusso del pubblico, che inizia ad incitare i neroverdi. E su una bella combinazione suggerita da Di Mauro, Vespucci e Partemi servono su un piatto d'argento la palla dell'immediato vantaggio, che fidanza, capitalizza senza farsi pregare. Dunque Chieti in gol al primo a fondo, che giunge al sesto. La reazione del Porto non è sterile, il 4-3-3 predisposto da Castellano porta Di Filippo al cross dalla sinistra. Partemi tocca con il braccio, rigore che del re dell'Aquila fischia senza esitazione. Baira dal dischietto alza troppo la mira, lasciando così a secco i biancazzurri. La squadra adriatica non si perde d'animo, continuando a spingere sull'acceleratore. Ed allora si erge a protagonista Pompei, che prima alza con la punta delle dita il colpo di testa di Baldin, poi devia da campione la staffilata di Zacchini. I Teatini, subita questa fase di gioco, si ripropongono sulla destra con Partemi, che pesca libera un'area a fidanza. Controllo e tiro fulminante, che non dà scampo a Di Giacomo. Ventiduesimo gol e quarta doppietta per il centroavanti di casa, che raccoglie gli applausi di tutto l'Angelino. Finale di primo tempo caratterizzato dalla traversa di Carconi, meno fortunato della gara di andata quando decise la gara dell'Adriatico. Nel secondo tempo a setta butta nella misca Salvatore Praino, assente dalle 18 gennaio, quando si infortunò nell'amichevole di Atri. Giusto il tempo di illuminare il proscenio con il tocco smarcante che Beniamino vanifica davanti a Di Giacomo. Subito dopo, Stella dal limite sfiora il montante. Nella fase successiva il Chieti mantiene il possesso palla, facendola girare molto. Il Porto non riesce a recuperare terreno, trovando nel gran caldo un nemico in più. Ed allora in chiusura di contesa, come in un bel film a lieto fine, Fidanza cerca l'inserimento di Praino, che si fa trovare pronto in area. Tocco sopra fino e gol del 3-0, che vale per Sasa Praino, il giusto premio per la fine di un incubo vissuto per tutto il girone di ritorno. L'abbraccio di tutti i compagni di squadra e la fotografia finale di una squadra salda, che è stata sempre unita e compatta in tutti i momenti della stagione. Non ci poteva essere un'occasione migliore per rientrare dopo un lungo infortunio. Purtroppo è stata dura per me, però con la buona volontà e con l'apporto con la società, perché tengo a precisare, io ho una vita che gioco. Con l'infortunio che ho avuto, non tante società avrebbero avuto tanti riconoscimenti, però mi è stata vicina e forse è più contenta la società di questo gol, di questo rientro, che è sottoscritto. Però la cosa più importante è la vittoria di questo campionato, che penso che va a merito, soprattutto, anche se è sempre la stessa musica a dire, dei presidenti, il presidente, ma è la società che io ho saputo che ha fatto nascere questa società incontrandosi una sera decidendo di far...